buongiorno amici delle piadine randage presenti sul mare della tranquillità siamo al dark side of la calla in una splendida giornata di sole ugiosissima piove ma noi non ci fermiamo davanti a nulla perché vogliamo dire claudio oggi oggi c'è un traguardo importantissimo guarda dillo tu non riesco tra poco più di due chilometri le piadine randage avranno più di 4.000 chilometri cioè 4.000 4.000 volevo trovare una distanza da rimini a 4.000 chilometri in realtà non c'è un posto perché finiamo nella steppa russa quindi direi da rimini a casablanca e ritorno più o meno io non so cosa voglia fare però a casablanca no a casablanca in effetti non volevamo andarci comunque niente tenteremo di raggiungere questo obiettivo oggi la compagnia è nutrita nonostante il tempo per cui ragazzi che vi devo dire in questi ultimi giorni in queste ultime settimane ha piovuto abbastanza e non so se si nota ma il sentiero è diventato un fiume claudio la strada era mai diventata un fiume non so se si nota qui si nota ma lì si nuota mamma mia l'impeto e la forza dell'acqua 10 metri? ragazzi ci siamo 2 chilometri e 490 metri pronti a festeggiare allo scocco dei 2.50 2.49 l'agoniato traguardo l'agoniato agogniato 7 5 pronti con la bottiglia 3 2 1 aspetta 1 05 025 2.51 abbiamo passato i 2.50 evviva 4.000 chilometri ok possiamo continuare Claudio chi è che ci è venuto a salutare oggi nella nostra giornata delle grandi feste il sole me lo stavo capendo guarda questa volta Gabriele queste me le devi dire prima tutti che guardavano in su ma chi sei un disco volante oddio adesso chi è che ci hai voluto a trovare Claudio dove stiamo per arrivare? allora no ci tenevo a dirlo perché è una zona a me cara tra 500 metri arriveremo a Poggio Reggi Guanto poi dopo vedremo un filmato e anche un po' la storia di Poggio Reggi Guanto che ci racconterà Paolo si si presi dalla pioggia i festeggiamenti non abbiamo detto dove siamo oggi oggi siamo ovviamente siamo tornati nel parco delle foreste casentinesi abbiamo lasciato la macchina al passo della Calla e abbiamo preso un sentiero che sta andando in direzione Camaldoli e che ci porterà fino a risalire fino a Poggio Scali giornata bellissima tanta acqua testimonianza della pioggia di questi giorni tra poco daremo via ai festeggiamenti anche perché c'è grande attesa per lo zaino del signor Paolo nasconde una sorpresa non ci ha detto cosa ha portato vedrete passaggi che richiedono un po' di attenzione anche perché Ale si è appena steso davanti a noi e mannaggia non l'ho ripreso e qui come butta? paesaggio veramente spettacolare guardiamo di non cascare nell'acqua mentre filmo e via addirittura abbiamo un tratto in qualche modo attrezzato corda per passare questo passaggio un po' oddio momento di panico tutto bene Doretta abbiamo cucinato e preparato gli stessi biscotti e te e anche la stessa confezione come si fa? anche Claudio ha cucinato ieri insomma vedo che poi avevo due scatoline di cartone sì perché è giusto portare le cose come se fossero confezionate perché dai da più valore alla cosa perché si mantengono meglio questo è un calclerobon ecco il pezzo grazie a tutti Avevamo paura di dover guadare il fiume invece fortunatamente il passaggio è interrato perché fortunatamente lo guardiamo e basta Ha fatto la battuta Finito, quello della battuta più brutta è finita perché avevamo La battuta fuori tema Fuori tema ma ci sta sempre Eccoci arrivati all'Aia di Dorino Siamo saliti da qua sotto Adesso proseguiremo qua in direzione del sentiero zero zero Ma prima faremo una nuova sosta perché abbiamo parecchio parecchia luveria si dice in termine tecnico La vedo una specie di tavolino guardate c'è un cipo Voglio mangiare un'altra volta? Eh? Voglio mangiare un'altra volta Sono già passati 15 minuti dall'ultima pausa cioè non è che qualcuno sa dirmi che tipo di muffa è questa? Ma qui la doretta sa tutto cosa abbiamo appena fotografato e filmato una tremella mesenterica che di fatto sarebbe Beh adesso la nostra giornata cambia grazie Con un fiatone che non è assolutamente simulato ma reale abbiamo appena concluso questa salita E adesso ci accingiamo ad un tratto pianeggiante che ci congiungerà nel giro di mezz'oretta al sentiero zero zero Per poi svoltare a sinistra peggio verso Poggio Scali Abbiamo finalmente conquistato il sentiero zero zero Allora come andiamo ragazzi? E' andata il passo del Porcareccio Passo del Porcareccio Questo è il passo del Porcareccio ok Claudio allora siamo qui qui c'è l'insegno di Poggio Scali ma abbiamo valutato che insomma il panorama non può essere quello dei giorni migliori E il punto sarebbe anche questo bellissimo vedete l'invaso di ridracoli lì esattamente laggiù c'è il mare C'è uno che ti saluta laggiù Ciao ciao ci sentiamo presto ciao Che visibilità Grazie a tutti Grazie a tutti Finalmente il parcheggio Passo della Calla ci siamo? E voilà Passo della Calla visibilità decisamente diversa rispetto a stamattina Finisce qui il nostro bel trekking di 16 km Gli ultimi stanno arrivando ma come al solito la nostra giornata non è ancora finita Cioè ragazzi non è che siamo arrivati a fare 4.000 km per caso eh? Qui c'è tanta roba In ogni senso Ma ci siamo le periti Ma ci siamo le periti E state bene Un Natale randaggio Un Natale randaggio per tutti Un Natale randaggio per tutti Ricordo una cosa Allora da noi in Romagna il cappeletto è fondamentale Però a Natale due ciccioli che non li butterei via Non devono mancare Buon Natale Ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.